Prosegue la campagna di rafforzamento della Nurese. La società di Via Osta ieri ha ingaggiato Bruno Frongia, che dopo sei anni torna in verde e azzurro. Il difensore, ma che può ricoprire anche il ruolo di centrocampista a sinistro, originario di Sola Russa, classe 1981, è stato uno dei protagonisti di quella cavalcata vincente che portò la Nurese dall'eccellenza alla Serie C2 sotto la guida dei tecnici Virgilio Perra e Mario Petrone. Frongia rimase in verde e azzurro per tre stagioni fino al campionato 2005-2006. L'anno della promozione in C2 giocò 18 gare per complessivi 1093 minuti, meritandosi una media voto di 6,1. Ceduto all'atletico calcio di Cagliari, Frongia ha lasciato un ottimo ricordo nella società e nei tifosi. Il suo ingaggio va a rafforzare il reparto difensivo che conta già sugli arrivi del portiere Maurizio Floris e del difensore Antonio Usai. Frongia ritrova anche alcuni compagni di squadra del progetto Sant'Elia e il tecnico Bernardo Mereu. In questi sei anni il difensore di Sola Russa si è distinto per un altro rendimento e ha dato un contributo fondamentale alle promozioni in Serie D di Selargius e progetto Sant'Elia. Nella stagione appena conclusa Frongia ha disputato 31 gare segnando anche 5 reti. Un ottimo acquisto per il reparto al retrato verde-azzurro che potrà contare su un veterano forgiato da mille battaglie in grado di guidare i compagni più giovani. Questa è una settimana importante per la Nurese che tirerà le somme del grande lavoro fatto nel massimo riservo. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare altri giocatori e il bacino di caccia della società verde-azzurra sembra essere quello del Cagliaritano anche se non sono escluse sorprese. Comunque piano piano sta prendendo forma la Nurese che affronterà il campionato di eccellenza. Un mix di gioventù ed esperienza che lascia ben sperare. Toccherà poi al tecnico Bernardo Mereu a sembrare le varie componenti e dar vita ad un progetto vincente.